E poi spam! Il mio aeroplano telecomandato si è schiantato contro lo strobo di papà e l'ha ridotto in mille pezzettini! Oh no! Lo strobo che ha vinto alla gara a balla fino al crollo di Royal Woods! Si vanta così tanto di quel coso! Lo so! Se dovesse scoprirlo sarò morto come la musica disco! Tranquillo, non sei l'unico a nascondere qualcosa a papà! Io ho involontariamente graffiato la sua macchina con la mia borsetta! E secondo te questo sarebbe grave? Ricordate il blackout dell'altro giorno? Io adoro godermi l'oscurità! E a proposito, qualcuno sa togliere la vernice nera dal pizzo? Ho dipinto l'abito da sposa di mamma per il matrimonio con Edwin! Che posso dire? Non siamo degli angeli! A volte facciamo danni! Ma la cosa è bella è che se devo togliermi un peso dallo stomaco posso sempre contare sulle mie sorelle! Beh, magari non tutte! Allora, di che state parlando? Il concetto che andiamo a vedere domani! Vi state di nuovo raccontando dei segreti, vero? Non è giusto però! Perché io vengo sempre esclusa! Semplice, perché sei una spiona, Lola! Io non sono spiona! Ok, lo ammetto! Un tempo ero una spiona! Ma ora sono cambiata! Sì, sì, sì! Sì, sicuramente! Mamma! Mi hanno escluso dal loro club segreto dei segreti! Dunque, dove eravamo? Io ho rotto lo strobo di papà a Luna che ha usato il blackout, Lori ha graffiato la macchina e Lucy ha rovinato l'abito da sposa! A chi tocca? Sapete quando papà ha urlato contro il cane perché gli ha rotto gli stivali? Sono stata io!